Noi avremo la rinuncia di Shanghai, possiamo comprendere anche perché, dito dopo il coronavirus è quello che può significare, come gran premio di automobilismo. Ecco allora l'occasione per il Mugello, è l'occasione per quello che può essere il primo gran premio automobilistico. Sappiamo che il Mugello ospita da anni uno dei più prestigiosi gran premi di Formula 1 per quello che riguarda il MotoPGP, ovvero il motociclismo. Ora possono arrivare le auto, ecco perché la regione toscana si impegnerà a fondo per favorire questa candidatura e consentire che accanto a Monza possa esserci, come una volta c'era Monza e Imola, ecco due gran premi in Italia, di cui uno, quello del Mugello, che si ricollega alle condizioni di sicurezza, di efficienza, di modernità che il nostro autodromo riesce a offrire. Un matrimonio fra sport, cultura, ambiente, quello che nel Mugello si può realizzare, con un autodromo di scarperia che è uno dei migliori del mondo. Quindi le istituzioni, noi per primi come regione, si impegneranno a fondo per ottenere questa opportunità che sarà una grande opportunità di richiamo e di valorizzazione di tutta la Toscana. Grazie.